Ciao, sono Luca Manelli e in questo video tutorial ti voglio spiegare come poter andare a utilizzare lo strumento curtain wall per creare una pavimentazione tridimensionale da utilizzare all'interno dei tuoi progetti. Per quanto riguarda le impostazioni della pavimentazione, andrò a usare quelle che ho già creato per la definizione del rivestimento del bagno. Ho spiegato come fare all'interno di un altro video tutorial, se eventualmente te lo sei perso ti lascio il link all'interno della descrizione. Utilizzo il comando preleva parametri e vado a prelevare i parametri dal curtain wall utilizzato per il rivestimento verticale. In questo modo all'interno delle impostazioni del curtain wall mi ritrovo le impostazioni date per il rivestimento. Prima di andare a definire le impostazioni per creare la pavimentazione, vado a creare un lucido dedicato al pavimento, per cui creo un nuovo lucido, vado a inserire il nome del lucido e confermo con ok. In questo modo ho un lucido dedicato al rivestimento del bagno e un lucido che vado a destinare per la pavimentazione del bagno. Fatto questo, apro la finestra impostazioni. Come dicevo, ho già disponibile le impostazioni del rivestimento, vado ad effettuare solamente delle modifiche. Parto dal pannello, avevo creato un pannello in grass 60x30, utilizzato appunto per il rivestimento verticale, lo vado a duplicare, per cui dopo averlo selezionato faccio clic su aggiungi, duplico e creo una piastrella grass 30x30. Vado a cambiare il nome e confermo con ok. Ora ritorno a selezionare la voce schema, faccio un clic all'interno dello schema sulla piastrella e vado a cambiare la piastrella imposto, piastrella grass 30x30. Ora modifico il dimensionamento. La larghezza diventerà 30 in modo tale da avere una piastrella di forma quadrata. Per quanto riguarda i profili, mantengo quelli che erano impostati per il rivestimento verticale. Per quanto riguarda il sistema curtain wall, mantengo sempre la posizione dei profili all'interno del perimetro. Questo valore lo lascio inalterato, poi dovrò andare a modificare la posizione del curtain wall rispetto allo zero di progetto. Però per adesso lo andremo a tracciare in questo modo, poi vedremo la variazione che dovremmo fare, ma la faremo poi magari all'interno della finestra di sezione. L'ultima cosa da fare è modificare il lucido. Al posto di rivestimento bagno vado a selezionare pavimentazione bagno e ora confermo con ok. Mi sposto in pianta e sono pronto a disegnare il curtain wall. Il sistema geometrico di inserimento che vado ad utilizzare sarà quello perimetro. In questo modo andrò a disegnare il perimetro del curtain wall direttamente in pianta in modo da creare appunto la pavimentazione. All'interno della vista di pianta il lucido è nascosto, per cui quando vado a disegnare per la prima volta Archicad mi chiederà appunto di attivare il lucido. Sono pronto per il tracciamento, faccio un primo clic, come abbiamo detto rendo visibile il lucido e ora procedo con il tracciamento. Vado a disegnare seguendo il perimetro della muratura, in questo caso dove ho il piatto doccia non seguo l'andamento del muro ma vado a disegnare lungo il piatto doccia fino a toccare il muro, poi vado a disegnare in questo modo e seguo sempre l'andamento del muro. Il pavimento logicamente passerà al di sotto della porta, dovremo anche lì fare una piccola modifica ma lo vedremo dopo e ora continuo con il tracciamento della pavimentazione. In questo punto vado a disegnare il pavimento fino al centro del pannello della porta, sono circa 10 centimetri, per cui vado a digitare 10, proseguo col tracciamento e ritorno a disegnare all'interno della stanza del bagno fino a ultimare il tracciamento. In questo modo abbiamo disegnato totalmente la pavimentazione. Ora vado a selezionare il curtain wall, all'interno del menu edita vado a richiamare il comando ordine di visualizzazione muovi sotto in modo tale da rendere nuovamente visibile il rivestimento del bagno. Ora mi sposto all'interno della sezione, vado a rendere visibile la pavimentazione del bagno a livello di lucido. Vediamo che il pavimento del bagno è stato inserito ma, come possiamo vedere, non è posizionato nella quota corretta perché è posizionato a una quota superiore rispetto alla quota del pavimento. Per cui seleziono il curtain wall e lo vado a spostare verso il basso di un centimetro. Questa modifica farà sparire il curtain wall al piano terra. Adesso poi andremo a risistemare la sua visualizzazione. Ma dovremo fare poi anche un'altra operazione perché avremo una compenetrazione tra il solaio e il curtain wall utilizzato per il pavimento. Lo vediamo meglio all'interno della finestra 3D. Possiamo vedere che abbiamo una compenetrazione che dobbiamo andare a eliminare. Mi sposto in pianta, puoi vedere che il curtain wall non è più visibile perché ora è visibile al piano sotto. Ora seleziono il curtain wall a questo piano. Apro la finestra impostazioni. Possiamo vedere che il curtain wall ha come piano ospite il piano terra, ma la sua visualizzazione ora è spostata al piano meno 1, al piano inferiore. Per poterlo visualizzare vado a modificare la modalità di proiezione. Al posto di simbolico per quanto riguarda i componenti non selezionati vado a selezionare proiettato. E per quanto riguarda il mostrarlo sui piani, al posto di tutti i piani relativi, seleziono solo piano ospite. Confermo con ok. Archicad mi avverte che da questo piano verrà tolta la rappresentazione del curtain wall. Clicco su continua e mi sposto al piano terra in modo tale da andare a visualizzare nuovamente il pavimento. Mi sposto ora all'interno della finestra 3D. Dobbiamo andare a modificare il solaio. Per cui seleziono il solaio. È una struttura composta. Vado ad aprire la finestra di editazione della struttura composta. Vado a modificare lo spessore del rivestimento superiore, che sarà il mio sottofondo, al posto di 10 cm. Inserisco il valore pari a 9 cm. Confermo con ok. Ho sempre selezionato il solaio. All'interno della finestra impostazioni lo vado ad abbassare di 1 cm. In questo modo faremo posto al pavimento e faremo in modo che il solaio faccia solo da base per la pavimentazione. Ora dobbiamo risolvere il problema della porta. Vediamo che abbiamo il pavimento che giustamente passa al di sotto della porta. Però abbiamo anche una situazione di compenetrazione tra il muro e la pavimentazione. Vediamo meglio questa situazione all'interno della sezione. Vediamo in questo punto che abbiamo una compenetrazione. Per poter andare a risolvere questo problema vado a selezionare la porta. Lo facciamo in sezione in modo tale da vedere immediatamente il risultato. Apro la finestra impostazioni. All'interno del pannello settaggi porta scorrevole nel pannello apertura muro puoi vedere che abbiamo la possibilità di ridimensionare l'apertura. Per quanto riguarda il ridimensionamento lo dobbiamo ridimensionare nella parte bassa. Vado ad inserire un valore pari a 10 cm. Questo mi permetterà di aumentare il foro all'interno del muro di 10 cm verso il basso. Confermo con ok e puoi vedere che abbiamo risolto il problema. Il muro che nella realtà va a prendere la parte strutturale dove abbiamo la porta non viene inserito perché abbiamo appunto il foro della porta che è stato aumentato verso il basso. Questo tipo di operazione viene poi anche risolta all'interno della finestra 3D. In questo modo abbiamo realizzato la pavimentazione utilizzando lo strumento curtain wall e posizionandola correttamente al di sopra del solaio. Avendo utilizzato un lucido per la pavimentazione avremo modo di poter andare a computare le piastrelle utilizzate magari andando a filtrare il curtain wall per lucido. Per quanto riguarda la computazione è molto simile a quella che abbiamo già visto all'interno del video dove ti faccio vedere come computare il rivestimento del bagno. Nel caso te lo fossi perso ti lascio il link all'interno della descrizione di questo video. Per quanto riguarda la definizione della posa del pavimento ci possiamo spostare in pianta. Possiamo andare a selezionare il curtain wall e andare a fare clic sul pulsante edita. Vado a disattivare pannello e profilo e attivo lo schema. In questo modo avremo la possibilità di agire sullo schema. Ora se dobbiamo andare a definire una posizione adeguata per la posa possiamo andare a fare clic magari su un elemento della griglia fare clic nuovamente e questo ci dà la possibilità di andare a selezionare il comando muovi griglia in modo da appunto decidere dove far partire la posa del nostro curtain wall che in questo caso appunto la pavimentazione la posso inserire magari al centro della porta oppure se vado nuovamente a selezionare lo schema ho la possibilità di andare a muovere sempre lo schema e posizionarlo in qualsiasi altro punto in modo tale da poter andare a definire nel migliore dei modi la posa della pavimentazione. Una volta che abbiamo definito la posizione corretta non dobbiamo far altro che uscire dalla modalità di editazione ci ritroveremo con la pavimentazione all'interno del nostro bagno con appunto la posa che abbiamo definito. Non è in questo caso quello che ho fatto io però intanto abbiamo visto come poterla gestire a livello bidimensionale logicamente avremo effetto per quanto riguarda la rappresentazione 3D anche all'interno del modello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.